Una veloce cronistoria sulla miciotta. Questa micina ha 16 anni. L'ammento ero alla stazione di Livorno e vi di buttar fuori dal treno, una volta che era arrivato, diciamo, dalla pensilina, questa micetta. Detto fatto, la presi e è stata a 16 anni che è con noi. È un po' birbina, è un po' furbina, è un po' preprotentina e ha comunque un compagno che è in grado di difenderla. Perché questo, viceversa, è più o meno la storia di quella gattina lì. Anche questo è stato abbandonato alla Betone da una figlia di puttana e basta, senza vita. Ecco, e rammetto che erano intorno ai giorni dell'ultimo dell'anno, stava nevicando da fa paura, ebbe un presentimento. Apri la porta, ero alla Betone, aprendo la porta mi vidi sgattaiolare dalle scale e rientro in casa questo gattino. In poche parole qualcuno l'aveva abbandonato. Altro figlio di puttana o bravi. E chiaramente siamo tutti e due l'abbiamo presi ed è una delle più grosse gioie che la vita ci ha dato fino ad ora. Sarà un dolore una volta che dovesse mancare uno delle due. Arrivederci. Stop.